Una cosa importantissima, era una promessa che avevo fatto alle detenute quando siamo venuti per Natale di vedere questa rappresentazione che sicuramente oggi faranno benissimo come del resto fanno sempre. Abbiamo contribuito per realizzare questo momento, c'è una presenza importantissima, il Capo del Dipartimento, tutti coloro che si occupano delle carceri sul nostro territorio, è un momento in cui le istituzioni dimostrano un'attenzione che naturalmente in questi momenti è sempre necessaria. Sì, un'esperienza molto bella, importante e soprattutto con un significato molto importante perché portare l'arte all'interno delle carceri ha sia un senso sociale, di solidarietà ma soprattutto è un accrescimento che la Regione Lazio sta lavorando e ci sta lavorando molto bene.